Grazie a tutti Tania è molto giovane, insomma avrà tempo di crescere però tra adesso Nicoletta credo che le attristiche di gioco non rischi forse mi sembra di capire che all'incirca 45-50 minuti di servizi al giorno li facciamo distribuiti magari fra mattina e pomeriggio o anche solo in una seduta giornaliera ma insomma abbastanza inevitabile con quel tipo di movimento un servizio senza laterale un servizio Bobo Cicca a servizio Bellissimo questo scambio Bobo in prime forze Stefano sa che non può perdere forza neanche lui e quindi va a cercare e si porta in vantaggio Stefano Tommaso a cercare un forte picco di forma ad una singola gara è importante che adesso Bobo Cicca Bello, bello gran punto di Stefano è incredibile questa capacità che ha Stefano di problema con un grande colpo anche se è qui fortunoso ma comunque con un grande colpo e si aggiudica il set Stefano Tomasi che si porta sul 3 a 2 allora il sesto set all'inizio con Stefano a servizio Stefano che conduce 3 a 2 brutto errore non è che molla niente e Bobo non si è creduto e qui ha preso uno spigo Stefano ero impallato non ho visto esattamente si ha preso uno spigo ora lo vedo perché gli spesso esce fuori da situazioni riesce a portarsi in parità assolutamente a vincere mi hai per continuare una partita e Stefano cerca lo sbaglio di Bobo Cicca e lo trova si è un punto mi sembra 3 punti da dietro siamo 4 pari mi sembra che abbia fatto 2 forze ora non c'è tutto molto difficile questo set si aggiudica il titolo Stefano Temasi si aggiudica il titolo nel singolo maschile e Stefano il nuovo campione italiano meritato perché ha ha veramente giocato bene ha giocato molto bene ha giocato molto bene ha giocato molto bene prima veterani molto importante per il momento avere tutti assieme si è un momento in cui sia i veterani che sono gli appassionati veri di questo sport che di solito giocavano in altre palestre meno qualificate ma credo che sia importante che tutto il movimento quando si presenta fetta e speriamo di poter avere sempre più pubblico oggi diciamo è uno dei punti dolenti il pubblico che è numeroso ma credo che fortemente in una zona diversa come Rimini avremo delle possibilità di far vedere il nostro sport e ci saranno delle sorprese prossimo grazie a tutti